Buonasera, stasera facciamo spaghettini, poi abbiamo un po' di... abbiamo le zucchine Facciamo soffriggere, un po' di cipolla, poi abbiamo il sugo pronto a nero di settina Com'è? Vediamo che esce fra i ragazzi Facciamo soffriggere, un po' di cipolla, poi abbiamo un po' di cipolla Facciamo soffriggere, un po' di cipolla, poi abbiamo un po' di cipolla Facciamo soffriggere, un po' di cipolla Facciamo soffriggere, un po' di cipolla Facciamo soffriggere, un po' di cipolla